Tra le numerose espressioni dell'associazionismo di Mezzo Corona c'è anche un centro di ricerche artistiche con noi direttore ben trovato, perché nasce questo centro? Il centro nasce come risposta alla volontà di diffondere l'arte contemporanea a Mezzo Corona ma più in senso ampio in Trentino nel senso che l'arte contemporanea spesse volte viene travisata nei suoi significati quindi noi vogliamo dare un nostro apporto di didascalico se vogliamo ma anche fortemente spirituale a quello che è la fenomenologia dell'arte contemporanea Quali sono i rapporti di collaborazione con gli enti e con le altre case d'arte in Italia? Abbiamo una serie di collaboratori di elevata qualità tra cui teatri come il Teatro Stabile di Verona tra cui l'Accademia di Belle Arti di Verona il Centro della Grafica di Venezia la Biennale Giovani di Gazzardo degli Ippoliti e di Ilmam la Via Claudio Augusta, il Centro di Dürer e poi abbiamo collaborato con le realtà locali tra cui il Mart con cui abbiamo presentato un evento di videoarte due settimane o sono e dobbiamo ringraziare anche la Galleria Civica per la mostra che in questo momento ospitiamo Che mostra è? Parliamone Questa è Mist, mistica e mistero di una collezione fotografica ed è una mostra curata da Mauro Fiorese che è autore, fotografo e collezionista ed è stata presentata all'interno della giornata del Contemporaneo la cui immagine è stata realizzata appositamente per questa edizione da Maurizio Cattelano la mostra presenta una serie di lavori dei più importanti fotografi contemporanei alle spalle qua abbiamo un Witkin e ha tra le sue caratteristiche principali l'elemento del mistico e del misterico grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti